ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi io sono fox e oggi vi faccio vedere il mio impianto fotovoltaico off grid in azione ragazzi per chi non conoscesse già l'impianto ve lo spiegherò vi farò capire cosa ho fatto cosa ho installato allora intanto qui vediamo in fase di test l'impianto perché ragazzi perché le giornate stanno iniziando a migliorare arriva il caldo e la temperatura della zona tecnica deve sempre essere sotto controllo il mio impianto ragazzi monta doppio inverter due inverter in parallelo ragazzi parentesi in sovraimpressione sul video passeranno delle grafiche queste grafiche sono gli ordini di gruppo attivi se volete acquistare i componenti per realizzare il vostro impianto sappiate che ci sono gli ordini di gruppo potrete avere i componenti a basso prezzo solo ovviamente grazie agli ordini di gruppo tra parentesi chiuso ora andiamo a parlare dell'impianto doppio inverter 5500 watt cada uno perciò in tutto 11 kilowatt la potenza del comparto inverter un pacco batterie l'ife più 4 assemblato da me se non hai visto il video di questo pacco batterie dal momento in cui ho acquistato le celle quando ho iniziato la costruzione di tutto il pacco batterie battele a vedere sul canale sono 15 kilowatt ora monto 16 celle da 295 ampere ora e ragazzi gran belle celle davvero gran belle celle e ad oggi sono forse a una ventina 25 cicli ok di uso l'elife più 4 questo modello ok perché sono delle rap rap scusate e hanno 6.000 cicli andiamo ragazzi a vedere gli inverter allora questo è l'inverter con produzione istantanea un kilowatt e 67 questo inverter uno ok perché io gli ho numerati giustamente ora 700 watt di produzione input dai pannelli in questo momento come vedi dalla grafica l'inverter è un ibrido cosa sta facendo stava ricaricando anche la batteria perciò essendo in parallelo entrambi due gli inverter caricano la batteria da queste due stringhe stringa uno con inseguimento solare sono quelli i all'impiedi ecco i pannelli che vedi in piedi sono dieci ragazzi dieci pannelli con struttura motorizzata sì perché ragazzi ho realizzato una struttura motorizzata con motori a bassa tensione che grazie a un controllo domotico mi seguono l'inclinazione e perciò lo zenith del sole tutto l'anno in la mia struttura si andrà a posizionare bella perpendicolare ai raggi solari per avere sempre il massimo di produzione se non hai visto neanche questi video vai sul canale ci sono centinaia di video dedicate a questo tema questa ragazzi è la bms quella di prima erano le celle la batteria il pacco batterie con le cover rosse qui invece ti faccio vedere la grafica in questo momento stiamo ricaricando la batteria con circa 10 11 ampere qui stiamo cucinando con il sole sì perché ragazzi io non solo mi sono staccato da nel dall'enel ma sto risparmiando un botto di soldi anche dal gas appunto grazie al mio piano a induzione a doppio fuoco ragazzi eppure devo dire sotto in descrizione vi lascio il link di tutto devo dirvi che funziona davvero davvero bene molto potente riscalda subito una vera meraviglia questo comunque sempre l'impianto ora siamo con 25 ampere di ricarica qui sto controllando quanti ampere da alla batteria perché ovviamente internamente inverter 1 come anche inverter 2 hanno i caricabatterie tutto insieme si ragazzi perché sono degli inverter ibridi grazie a questi inverter potrete semplificare al massimo l'installazione del tuo impianto fotovoltaico qui in sovraimpressione ti ricordo sempre le locandine che comunque troverai sui miei social facebook anche tiktok e se volete informazioni ed acquistare questi prodotti con l'ordine di gruppo organizzato dal fox tech channel cioè il mio canale vi chiedo di contattare nel mail sempre sovra impressione passerà la mail qui ragazzi 14 ampere in corso di ricarica ragazzi ora vedremo una prova di forza fatta stamattina stamattina ho acceso l'impianto di raffreddamento perciò l'aria condizionata un 12 mila btu un 9 mila btu messi a 22 gradi lasciati lavorare ok qualche ora e in più c'era anche lo scaldabagno perciò due climatizzatori più scaldabagno poi si è aggiunto anche il piano induzione ma vi mostro di nuovo i miei pannelli doppio stringa una stringa con inseguitore solare da 10 pannelli l'altra stringa senza inseguitore solare fissi a terra sono 5 inverter 1 è dedicato a l'inseguitore solare inverter 2 a i 5 pannelli fissi che a breve diventeranno 10 perché devo aggiungere altri 5 pannelli sempre fissi su inverter 2 per equiparare le potenze quasi 3 kilowatt di assorbimento sul canale nuova cucina e 2 kilowatt su appartamento perciò ragazzi 5 kilowatt come assorbimento massimo eccolo qui ti faccio vedere le grafiche degli inverter 2.77 qui ragazzi stanno pompando tantissimo le ventole hanno aumentato il loro numero di giri giustamente qui vediamo anche la batteria eccola qui prende una parte di potenza anche sulla batteria perché considerando che i pannelli sono 10 e 5 i due inverter non sono al 100 per cento equilibrati appunto devo andare più avanti a mettere almeno altri 5 pannelli sulla stringa perciò la differenza di potenza lui la prende dalla batteria perciò inverter 1 alimenta totalmente dai pannelli inverter 2 alimenta metà dai pannelli e metà dalla batteria ragazzi tutto automatico grazie al mio sistema ragazzi a questo sistema bellissimo io ho abbandonato quasi totalmente in questi due mesi il contatore forse 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 questo mese ho consumato dal contatore un kilowattora ma perché 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 lo aveva attaccato io per fare una prova se no ragazzi totalmente autonomo e guarda che potenze 5 kilowatt di assorbimento grande fox ciao ragazzi al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti